Non sarebbe bello né giusto nascondersi dal futuro, il futuro lo dobbiamo guardare e soprattutto lo dobbiamo capire. Perché il futuro non si può prevedere, però nei riguardi del futuro si può essere preparati. Si può essere preparati anche nei riguardi di cose che ci fanno paura. Quindi noi dobbiamo guardare il futuro in faccia e io mi riallaccio a quello che ha detto Alissan Sambattiari, perché lui ha parlato di Aurelio Peccei e noi siamo qui tutto sommato perché c'è stato Aurelio Peccei che ha dato inizio a tante cose e io volevo cominciare facendovi vedere questo e dicendo la frase fatidica, un fantasma si aggira per il mondo. Questo fantasma che è il lavoro del Club di Roma, che in realtà è il Club di Roma nella persona di Aurelio Peccei che lo fondò si limitò a sponsorizzare, neanche finanziare, il lavoro di un gruppo di scienziati dell'MIT, del Massachusetts Institute of Technology, che scrissero questo testo del 1972, fecero questa ricerca, che in Italia è nota come i limiti dello sviluppo e che nel titolo reale era i limiti alla crescita, che è una cosa un po' diversa e che nel 72 ebbe un effetto dirompente. Quelli di voi che hanno più di 50 anni, che vedo sono abbastanza pochi oggi, interessante, molti di voi hanno meno di 50 anni, quelli di voi se lo ricordano, probabilmente lo hanno letto, sia quelli di voi che hanno 50 che quelli che hanno meno, sicuramente sapete che era un libro tutto sbagliato, o almeno questa è la percezione che se ne ha, se leggete su internet, se leggete libri, se sentite parlare chiunque si occupa di queste cose, ah, dice questo è il libro dove avevano sbagliato tutto. Bene, delle tante balle che ci hanno raccontato, non solo negli ultimi tempi, è tanto che ci raccontano balle su tante cose, questa è un'altra di queste cose. Questo libro è un libro che è stato una pietra miliare nel pensiero umano, non so per cosa sarà ricordato il XX secolo, per quale rivoluzione scientifica, forse per la relatività, forse per la meccanica quantistica, ma ci sono buone probabilità che sia ricordato per questa rivoluzione scientifica, sviluppata da un uomo che si chiamava Forrester, J. Wright Forrester, all'MIT negli anni Sessanta, che è il pensiero dinamico. Prima di metterci a parlare però devo un attimino spiegarvi perché si parla, perché è una balla questo, perché tutti dicono che è una balla. Vediamo un attimino se possiamo ricordarci che cosa diceva questo libro. E qui ho semplicemente ingrandito la copertina. Vedete, non so se ci leggete bene, comunque la linea rossa sono le risorse minerali, quella marrone è la produzione alimentare, agricola, quella verdolina, verde smeraldo è il prodotto industriale. Allora voi avete letto che il Club di Roma, o meglio detto il gruppo dei limiti, avevano sbagliato le predizioni, ma se queste erano le predizioni evidentemente non erano sbagliate, perché il Club di Roma non aveva previsto che succedesse niente di particolare prima dalla scala del 2010-2020. Non doveva succedere niente, e la crescita doveva continuare solo dopo il 2010 circa, perché chiaramente sono predizioni del 72, avrebbe cominciata quella famosa transizione di cui ci ha parlato Alissam Sambaktiari. Per il momento non siamo a questa transizione, per quanto oserei dire che ci sono degli brontolii che Alia ha chiamato rumblings, quelli di Pompei, effettivamente ho l'impressione, non so se avete anche voi questa impressione, che c'è qualcosa che brontola qua sotto, che questo crollo della produzione industriale, della produzione alimentare e più tardi della popolazione potrebbe verificarsi effettivamente nel futuro, nei prossimi anni. Questo serve per dirvi che vi raccontano delle balle incredibili. Se volete studiare la storia di questa faccenda, come mai questa balla si è diffusa, e un signore che si chiama Ronald Bailey, che scriveva su Forbes nel 1989, raccontava una serie di bugie, ma proprio bugie, come le coccodrilli delle foglie di New York per intenderci, lo scrisse su una rivista che è appunto Forbes, che è abbastanza nota, e siccome nell'89 nessuno si ricordava più di che cosa era stato scritto nel 72, nessuno andò a verificare e si è diffusa la leggenda degli errori del club di Roma, che non sono errori. Però, a parte il fatto che non sono errori, la cosa va un attimo capita, perché che cos'è questo? È un futuro che indubbiamente non è piacevole a vederlo, perché ci parla di un crollo, peraltro è un futuro che va affrontato e va capito. Allora, spenderò cinque minuti per spiegarvi un pochino come funzionava il modello del club di Roma del 72, che era un modello estremamente evoluto, perché era il primo modello integrato, o meglio detto aggregato, come si dice, in cui si teneva conto di energia, materie prime e ambiente. E anche la popolazione, che qui ora noi nel titolo non l'abbiamo messa, ma insomma era un modello basato su cinque elementi, risorse non rinnovabili, cioè le materie prime, le risorse rinnovabili, l'agricoltura, il capitale, la popolazione e l'inquinamento. L'energia era aggregata nelle materie prime. Possiamo fare dei modelli in cui l'energia è separata, ci sono molta apertura per poter cambiare questi parametri, ma questo era come era organizzato questo modello. E il modello teneva conto delle interazioni fra gli elementi del sistema. Era il nocciolo del modello, è che non si guarda le cose separatamente, non si parla solo di petrolio, o solo di effetto serra, o solo di sovrappopolazione, ma si guarda le loro relazioni. E come vi sembrerà ovvio, questi elementi interagiscono in modo positivo o negativo, in quello che in termini tecnico si chiama feedback. Per esempio la popolazione cresce, crescendo si produce più cibo, si può avere più agricoltura, più cresce la produzione di cibo, più cresce la popolazione, però ovviamente a questo ci sono limiti. Quando avete di fronte un sistema un po' complicato, la cosa migliore per capirlo è spezzettarlo in sottosistemi. Allora, per esempio, vi faccio vedere rapidamente un po' delle rotelle del modello, come funziona internamente, ma è un punto importante, per esempio capitale e risorse, materie prime, interagiscono fra di loro rinforzandosi fino a un certo punto. Io estraggo delle materie prime, dei minerali, dal profitto creo capitale, da questo capitale investo nell'estrazione, ed è un loop, un feedback che cresce. Cresce finché possibile, perché piano piano la risorsa non rinnovabile si esaurisce gradualmente, non sparisce, ma diventa sempre più costosa da estrarre, a questo punto il feedback da positivo diventa negativo, per cui non riesce l'estrazione a creare abbastanza capitale per continuare l'estrazione, per continuare a incrementare l'estrazione. E questo che vedete è il nocciolo della teoria di Hubbard, che è un po' il padre di tutti noi, il padre di Aspo, e il famoso picco del petrolio di cui ci ha parlato ora Alisson San Bakhtiari nasce da questo fenomeno che era già stato capito negli anni 70, ma ancora prima Hubbard aveva capito il concetto empiricamente negli anni 60, ma il concetto di picco del petrolio sta in questo modello, molto semplice, che è un sottomodello che sta in piedi anche da solo, anche senza tener conto delle interazioni con gli altri fenomeni, e non è solo una teoria, è una cosa che si verifica, è vera, questo è il famoso picco del petrolio degli Stati Uniti, che è quello che Hubbard riuscì a prevedere con buona approssimazione, le prevedizioni non sono mai perfette, ma certe volte sono buone abbastanza, e questo, se vi incuriosisce, è il famoso modello di Guseo, di cui Ali ha parlato, curiosamente in Italia o a Teheran, a Firenze o a Teheran si riesce a vedere le stesse cose, siamo influenzati più o meno dalle stesse persone, cioè il mondo con l'internet e tutto il resto è diventato piccolo, curiosamente io mi accorgo parlando con Ali che abbiamo letto le stesse cose, che abbiamo studiato le stesse cose, che ci hanno fatto impressione. Quindi vedete che anche questo sottomodello da solo ci dice che siamo di fronte a una caduta della produzione energetica in tempi brevi, che è quello che diceva Ali. D'altra parte il modello è fatto di altri elementi, popolazione e risorse, rinnovabile, agricoltura, anche qui stiamo andando verso un qualche tipo di picco, e questo è il picco alimentare, di cui si parla meno che del picco del petrolio, ma c'è anche quello, è una cosa indubbiamente importante. Vedete in alto a destra il fatto, per esempio, che la produzione di grano per persona è in calo già da diversi anni, per il momento non c'è un problema grave, però chiaramente la popolazione è destinata ad avere dei problemi. Certamente se leggete le proiezioni delle Nazioni Unite, di altri enti si parla di che arriveremo a 9 miliardi e mezzo, 11 miliardi e mezzo di persone, ma io personalmente non lo credo. Da questi modelli viene fuori che arriveremo forse a 7 miliardi per poi declinare. Anche una delle ragioni è che la produzione alimentare non ce la farà a sostenere, non ce la può fare a sostenere 9, 10, 11 miliardi di persone, quindi andiamo già anche lì verso un declino. Oppure l'inquinamento e il capitale. Anche questo, guardate, era una cosa che era evolutissima. Già nel 1972 c'era l'intuizione che l'inquinamento, quello che loro chiamavano inquinamento, influiva sul capitale. Nel 72 non si parlava ancora di riscaldamento globale, di problema climatico, non si sapeva che cos'era. Però oggi, rivedendo il modello, vediamo che quel parametro era il riscaldamento globale. Loro già nel 72 avevano visto che c'era un qualcosa che impediva lo sviluppo industriale oltre un certo limite. Quindi vedete, il modello è fatto di sottomodelli che possiamo capire uno per uno, ma il bello del modello è l'integrazione del modello. Tenere insieme tutti questi elementi ed è una potente amplificazione della mente perché noi siamo limitati. Quelli di noi che si occupano di petrolio tendono a vedere solo il petrolio, quelli che si occupano di clima tendono a vedere solo il clima. È molto difficile avere una visione globale. Allora ci vuole un aiuto. E la grande intuizione di Forrest, di Meadows e degli altri che hanno lavorato su questo modello è stato che il computer, che a quell'epoca era nella sua infanzia, era un aiuto per la mente umana per aiutarti a capire fenomeni complessi. Che per noi è molto difficile perché uno dei problemi principali che ci troviamo di fronte quando parliamo di futuro è che la gente vede un pezzetto di futuro ma non riesce a vederlo tutto. Parlate con uno che fabbrica doppi vetri e vi dirà che i doppi vetri sono la soluzione di tutti i problemi. O uno che fabbrica lampadine a basso consumo con le lampadine a basso consumo risolviamo tutti i problemi oppure viene Rubbia che vi dice con l'idrogeno si risolvono tutti i problemi. Ma bisogna vedere il futuro nel suo complesso. Quindi questo modello, che è uno dei tanti modelli che la dinamica dei sistemi, questa metodica ha avuto un eclissi negli anni 80 e 90 perché era stata così pesantemente criticata ma ora ci si sta ritornando e c'è uno sviluppo di vari tipi di modelli che ora non sto certamente a dirvi tutti quelli che hanno fatto modelli di questo tipo ma semplicemente l'edizione del 2004 fatta dagli stessi autori del 72, Medos e altri ci ridà più o meno questo stesso futuro il futuro del 72 e il futuro del 2004 si somigliano molto ci sono delle differenze molto piccole il modello si adatta e ci dice anche oggi che a breve scadenza, 2010-2020 potremmo trovarci di fronte al declino della produzione industriale al declino della produzione alimentare e subito dopo al declino della popolazione è un futuro non piacevole evidentemente che può darsi che non vi faccia piacere vedere però è un futuro che dobbiamo fronteggiare e il punto essenziale è capire che cosa che cos'è questa predizione cioè quando io faccio vedere questa cosa c'è anche gente che fugge urlando succede ma ora vedo che tutti resistete c'è gente che chiude gli occhi perché non lo vuol vedere c'è gente che dopo che ho finito di parlare alza la mano per dire non è vero nulla non c'è problema e il punto centrale non è che non sia vero nulla o che non è una profezia questa il punto centrale è che questa è una tendenza quello che gli americani chiamano scenario e come ha detto Ali il futuro è qualcosa che decidiamo noi questo è uno scenario spiacevole che si verificherà se noi lo facciamo verificare e dipende da noi cosa vogliamo fare vi faccio vedere una cosa vedete nei vari calcoli che si fanno in questo tipo di modelli il modello dipende dai parametri e i parametri dipendono da come gli esseri umani agiscono sui parametri per esempio una polemica che c'è ora in giro è se è più grave il riscaldamento globale o è più grave l'esaurimento delle risorse c'è gente che si letica ma qua si fanno a botte ora non l'ho ancora visto succedere ma occasionalmente ho visto gente arrabbiarsi vedete il modello aggiustando i parametri vi dà il collasso in basso dal riscaldamento globale o vi dà il collasso d'esaurimento delle risorse che cosa vuol dire questo? che il modello non serve a niente perché non vi dà una predizione precisa e proprio questo è il bello del modello il modello si adatta al futuro e si adatta a quello che facciamo noi il sistema è comunque limitato a un certo punto si deve fermare noi non possiamo crescere all'infinito questo non c'è bisogno di modelli è fisica, è termodinamica ditelo voi come volete però il modello ci dice come possiamo arrivare a confrontarci con i limiti e a seconda di quello che faremo ovvero agiremo principalmente contro il riscaldamento globale o contro l'esaurimento delle risorse in questo momento stiamo prendendo delle azioni proattive contro il riscaldamento globale perché sembra che il problema del riscaldamento globale forse vero è più grave di quello dell'esaurimento delle risorse in questo caso se noi risolviamo da solo il problema del riscaldamento globale ci troveremo di fronte a quello dell'esaurimento delle risorse o viceversa secondo quello che vorremmo fare questi qui signori sono i modelli veramente utili modelli rilevanti per quello che ci aspetta perché vi permettono di pianificare avete di fronte più di un futuro potete sceglierlo secondo come evolvono i parametri secondo le azioni che facciamo ci dirigiamo in una certa direzione in un'altra questo è il tipo di modelli che si usano adesso sono i cosiddetti ventagli di modelli uno fa molti scenari e poi ha una via ha una strada un'autostrada come diceva lì che percorre seguendo cose che a quel punto sa l'errore purtroppo che molta gente non è abituata ai modelli la gente già è difficile per molta gente capire un diagramma XY figuriamoci ma la gente non è abituata ai modelli e crede che i modelli siano profezie allora la profezia non serve a niente quello che vi dice il mago Thelma tutti gli anni a gennaio non serve a niente anche ammesso che Thelma avesse ragione non servirebbe a niente cioè arriva Edipo della storia va all'oracolo di Delfi l'oracolo di Delfi dice a Edipo ammazzerai tuo padre e sposerai tua madre allora Edipo gli dice sei scemo no non gli dice così perché vive in uno spazio narrativo in cui queste cose devono verificarsi per forza qualunque cosa faccia Edipo povero uomo che ti scappa da te Edipo va a giro finisce che ammazza suo padre e sposa sua madre ma una profezia così non vi serve a niente perché non la puoi evitare comunque le profezie sono sempre sbagliate a parte queste delle storie per cui non servono a niente perché sono sbagliate anche se fossero vere non servirebbero a niente il grande problema con questo lavoro dell'MIT del 72 è che la gente l'aveva presa per una profezia e aveva detto la profezia ci causa il danno ma non è questo non era una profezia non lo è tuttora è una possibilità è una tendenza che abbiamo davanti questa altri scenari che ci sono nell'ultima edizione altri scenari che potremo trovare nei vari studi fatti da vari Fidman Fidman che stanno studiando su queste cose anche noi ci stiamo provando a lavorare sopra ma il concetto essenziale è un po' quello delle cinture di sicurezza di fronte a questi a questi modelli cioè noi ci prepariamo per il futuro anche in previsione di eventi spiacevoli incidentalmente la storia che a Napoli facevano le cinture di sicurezza le magliette con le cinture di sicurezza anche quella è una leggenda urbana non è mai esistito ma come dire